Ciao a tutti e benvenuti a questa prima lezione di allenamento. Oggi faremo un po' di riscaldamento e un po' degli esercizi. Alcune indicazioni prima di iniziare. Allenatevi sempre sotto la supervisione di un adulto. Quindi se siete da soli andate subito a chiamare la mamma, il papà o qualsiasi adulto maggiorenne e che sia lì con voi. Poi, un'altra indicazione. Se vi allenate all'aperto, mi raccomando copritevi bene. Niente maniche corte che fa freddo e magari una maglietta termica o una fetta, ecco. Se vi allenate in casa, invece, attenti a quello che avete attorno. Sono attenti a televisori, attenti a sedi, a tavoli, ok? Dovete trovare un po' di spazio senza rischiare di farvi male. Inoltre, un'altra indicazione che può sembrare scontata ma non lo è. Allenatevi con le scarte, perché non siamo in palestra, non abbiamo la materassina. E basta. Buon allenamento, iniziamo. Ok, iniziamo la lezione con il saluto. Pugnati a bianco, piedi niti. E, mi, in ve, le. Iniziamo con i soliti saltelli. Pronti? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Mort, ai, va, mun, nam, tau, dai, tam, cin, moi. Piedi niti, avanti e indietro. Mort, ai, va, mun, nam, tau, dai, tam, cin. Ok, stessa cosa, di fianco. Mort, ai, va, mun, nam, tau, dai, tam, cin, moi. Ok, adesso, se avete un po' di spazio, facciamo un po' di animaletti. Se non li avete, potete anche farli in poco spazio. Allora, partiamo dalla popoletta. e l'acqua. Non vi fermate, ah, mi raccomando. Resistete ancora? Ok, e la popoletta è fatta. Adesso un po' di ranocchia. Si può fare anche sul posto questa. Pronti? Via! Ecco qua. Possiamo fare anche l'ossetto triste. Sempre stando attenti e mi raccomando, tenere le gambe belle tesi. Ok, la lezione è finita. Saluto di nuovo. Pugna a fianco, piedi uniti. Ehi, ne, ne, me, le. Ciao! Ci vediamo la prossima volta, la prossima lezione. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti.